Passo falso interno per la Saremese che alla prima del 2018 al Comunale viene superata 3 a 1 dall'Albissola. La gara però ha visto i padroni di casa partire subito a Remmanti. Al primo minuto di gioco Lauria si fa largo in aria e prova la conclusione para Caruso. Al quarto minuto ci prova Lobosco, il numero uno ospite abile a respingere in angolo la conclusione. Al sedicesimo la prima occasione di marca ospite con Gargioli che poi sarà votato migliore in campo dai giornalisti della tribuna stampa. La sua conclusione viene neutralizzata da Gavellotti. Dieci minuti più tardi altra occasione per Lauria che su punizione dalla tre quarti di Costantini tenta la girata. Caruso devia in angolo. Al trentesimo ci prova Caboni servito da Lobosco, il numero 30 a Mattuziano tenta la conclusione di potenza, pala alta. La prima frazione si chiude con due occasioni per la Sanemese. Al quarantunesimo Anzaghi serve Lobosco che colpisce di testa para Caruso. Due minuti più tardi gran palla di Caboni per Lauria ma il numero 10 Mattuziano viene fermato sul filo del fuorigioco. Nella ripresa parte forte l'Albissola. Al quarto Corbelli da solo in aria prova la conclusione ma spara a lato. Al dodicesimo ci prova ancora Corbelli, pala deviata in angolo. Ed è proprio sul conseguente angolo che gli ospiti trovano il vantaggio con Gargiullo che svetta di testa e la mette in rete. La Sanemese prova a reagire e si rende pericolosa con un tentativo di testa di Lobosco su calcio d'angolo, pala alta. Al diciassettesimo l'Albissola colpisce un palo su azione di calcio d'angolo con Gargiulli ma cinque minuti più tardi su un'azione fotocopia trova la rete del 2 a 0. Sancinito batte il corner. Gargiulli la colpisce in anticipo e porta i suoi sul doppio vantaggio. Passano pochi minuti e la Sanemese accorcia le distanze con una rete di cavoni che salta un difensore e conclude con un potente mancino. Ma nel giro di pochi secondi l'Albissola ristabilisce le distanze. Piacentini recupera palla segnando la rete del definitivo 3 a 1. Negli ultimi minuti di gioco la Sanemese si riversa in avanti alla ricerca di una rete che possa riaprire il match ma l'unica occasione degna di nota arriva al 42esimo quando Lauria tenta la girata Mancina e Caruso devia in angolo. Unica nota positiva della giornata è la contemporanea sconfitta del Ponsacco superato in casa 2 a 1 da Ria Forte Quercetta. La vetta quindi rimane ancora un solo punto di distanza.